C'è della tensione sessuale qua Ma che cazzo c'hiamo? Allora se andò a fa un calcetto Una volta che posso viaggiare il comodo Il doc è concentrato Allora guardate la faccia Allora Non mi piace il calcio e non sono neanche forte Stiamo andando a fare un calcetto contro i mister di zona Video un po' diverso sul canale Però oggi andiamo a fare il culo a tutti e faccio l'italiano medio Pronostico per partita Secondo me vinciamo 7 a 3 noi 7 a 3 9 a 7 Io dico 10 a 8 Oh sto venuto degli amichetti a trovarci Eccolo qua Fatte ma volete far raccontare questa a questa Le cazzate Ti ho scampato Ma con l'età ma Cazzo ci avete mandato Ma parco orrero si deve rispettare L'altro video sarà pieno di bifo Già lo so Questo viene quando vuole Oh ma deve venire un'ora Dai Abbiamo prenotato un campo per due ore Siamo arrivati un'ora dopo Quindi abbiamo buttato un'ora E la dobbiamo comunque pagare Ti hai coglioni Se mi do Scusa Regà Regà Poi stiamo spaccato Pronto Sì scusa Scusa Ne sento un altro Che è un problema Ciao Ciao Tu 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 Mi sono ripetuto Saldamente Ah Non è che sono forte in difesa Non è che è un attacco Io perché ho stato Questo è un partito di allenamento La faccio stasera All'all fashion La partita Dalle tiga delle stack Io voglio vincere Non me ne fregano Cazzo Ma c'è lui con l'air force Sì C'è un pochino No No Cosa No Che cazzo c'è Non è ancora iniziata Non è führen Non è ancora iniziata Bispara 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 Bim Bum Bam Dai Salut Pari Mi sa chiama Il cābillo Non la notte Sì Non io non la no Mi sa Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Do Non c'è Air Ho Untor Il blocco ha fatto il primo gol, io ho perso il fiatolo pure in minuti, noi ci siamo. Da allenatore, non mi ascoltano, 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 perché non ti ascoltano? Come faccio? Questa partita vedo bene, semplicemente sono uscito e ora stanno già perdendo, questo è il punto. Che lottatore! Doc, com'è? Porco Giazzi, datemi la bombola. Come scusa? Un giuntone, un giuntone cadenza. Sei già tornato in campo? Non cagare il c***o. Com'è la situazione qua in porta? Diciamo. Che succede? Che succede qua? Mamma mia, lo stop perfetto. Le contropiadi di pachi? Come fratino. Guarda che io sono pronto a entrare quando serve. Guarda che io sono pronto a entrare quando serve. C'è della tensione sessuale qua Raga porco d***o Guarda che napoletano guarda che napoletano Va bene va bene paghi Vai va bene dammi Va bene va bene per il culo Oh mamma Oh le chiavi Le chiavi Salvo le chiavi La spagna d'olio E' via Ma che c***o siamo ora Io non perdo i concorsi qua Perché mi impegni e mi impegni Qualcuno si è incazzato Ma si è incazzato Ma si è incazzato Giocate per ridere Andiamo andiamo Fra mi fa incazzare Fra mi fa incazzare ma fra Ma fra Ma non è che è corso Io non gioco che non vengo qua per te Fra mai Ma neanche l'orotore del sand del porco di Non perdo mai Fra a me non mi interessa Fra non mi interessa Ma fra dai L'altro quest'altro che non corre Si mettono a ridere Quello accade per terra Sto codino qua fra Si torna in campo? E ora torniamo Ok Bravo 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 Il doc è uscito sette volte E te è la prima volta che esci Ragazzi fratino Fratino ragazzi Ti stai massacrando Non c'ho un cazzo da fare Il testo strano in peace In bocca a tutti Forte Ci sono un po' di lagune A livello proprio di comunicazione Si 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 Mano Questa è mano Questa è mano Questa è mano St'analitica per chi tira St'analitica per chi tira Ma faccio il cuore Porcoglietti A nanna L'ha mandata a nanna Oh mio Dio Oh mio Dio Dai è diverso Bene è diverso qua Questo c'è mano Questa c'è mano Questa c'è mano Spacca Mi sono ripetuto Pronostico per partita Stata vinciamo Stata vinciamo Dici Stata vinciamo Comunque complimenti per la sconfitta Tutto il testo a serone Avete fatto schifo al cazzo Ora Andiamo alla classe Siamo studiante della competenza Siamo studiante della competenza Questa c'è Non ci usi Spacca La quale